Buongiorno, ben svegliati e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, quella di mattino 6, siamo pronti per andare a leggere i quotidiani di questo giovedì 21 febbraio 2019, partendo in questa prima parte come di consueto con le prime pagine dei quotidiani di casa nostra, ma non solo, anche delle testate nazionali e sportive principali. Allora, cominciamo con i giornali di casa nostra, con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro, questa è quella di Pescara con cui apriamo abitualmente, l'apertura è dedicata alla cronaca, bimbi intossicati a casa dei nonni, paura per il modossido a Pescara, camera iperbarica per tutta la famiglia. Leggiamo sotto la testata i box che riguardano questioni anche nazionali, non direttamente legate per forza all'Abruzzo, per esempio per la politica Grillo Bacchetta Di Maio dopo il voto su Salvini, si parla di fibrillazione nel Movimento 5 Stelle. Per la Champions League, ieri serata amara per la Juve, atletico sul 2-0 e adesso è dura. Scendiamo, torniamo in Abruzzo con la fotonotizia, purtroppo altra cronaca, stroncato da un malore a 28 anni mentre torna a casa in auto la tragedia a San Valentino, paese di lutto per la morte di Emilio Astrologo, 28 anni ucciso da un malore mentre tornava a casa. Sotto la fotonotizia, Riccatti con le foto porno arrestato, Pescara un 35enne estorce soldi ad una donna ma all'incontro lei si presenta con la polizia. E in basso altri due box, Tribunale Ecclesiastico di Chieti, giovani, nevrotici e immaturi, crescono i matrimoni nulli. E poi per la politica, oggi vertice di maggioranza giunta a Marsilio, prende tempo il nuovo governatore, aspetto, dice la proclamazione. Nelle cronache, via libera del Consiglio sia agli alloggi in sottotetti, garage e cantine. Cantine, sottotetti, garage e sottoscala possono diventare abitabili o essere trasformati, come leggiamo il locale uso commerciale, direzionale o artigianale. Basterà pagare un contributo straordinario al comune che in caso di prima casa si abbassa al 30%. Sanità Angelini, condannato in via definitiva, 8 anni in Cassazione, confermata la condanna per Vincenzo Maria Angelini, l'ex re delle cliniche private, ritenuto colpevole della bancarotta del gruppo Villapini di Chieti. Elezione a Montesilvano, lega e forza Italia, pronte a convergere sul Maragno bis, dunque a confermare l'attuale primo cittadino di Montesilvano. Cambiamo edizione, andiamo su quella di Chieti, Lanciano Vasto, cambia l'apertura ma è sempre di cronaca, droga in classe, arrestato studente a Chieti, blitz dei carabinieri a scuola, l'alunno aveva anche dosi a casa. La fotonotizia riprende ma amplia, come vedete anche dal punto di vista grafico, la condanna definitiva per Angelini, arriva la sentenza della Cassazione e adesso rischia il carcere. In basso, maltrattamenti, è arrestata la maestra, siamo a San Salvo, sotto accusa le sgridate ai bambini dell'asilo. Oggi l'interrogatorio, andiamo nelle cronache, a Chieti, Confindustria, Pagliuca al posto di Zecca, Confindustria, Chieti Pescara deciderà l'8 marzo chi sarà il nuovo Presidente, a meno di candidature dell'ultimo momento, sembra che a prendere le redini della Confederazione delle Industriali sarà Silvano Pagliuca. A Treglio, Centro Sportivo del Lanciano, partono i lavori, oggi il Lanciano 1920 posa la prima pietra, il Centro Sportivo Frentano, adibito alle formazioni giovanili che il club rossonero intende realizzare proprio a Treglio, praticamente alle porte di Lanciano. Siamo a Chieti, qui lavori sul web, l'area influencer da 54 mila fan. L'edizione teramana del Centro, condannato per le botte ai genitori, un anno e otto mesi ad un giovane teramano, voleva soldi per la droga. La fotonotizia, questa notizia un po' curiosa. Fantacalcio, consigliere di Torano, rimborsato da Boateng dopo il passaggio del giocatore al Barcellona ed evidentemente non può più sfruttarlo, non poteva più sfruttarlo per le formazioni al Fantacalcio. E vediamo, Roberto Nepa a Rai 1 in collegamento con Kevin Prince, Boateng, neo giocatore del Barcellona, già da qualche settimana. In basso, ladri inseguiti a folle velocità tra le case, siamo a Martinsicuro, invibrata e i banditi stavano per investire due anziani e poi sono riusciti a dileguarsi. Nelle cronache, a Silvi, perseguita fratello e cognata, una donna a giudizio minacce via WhatsApp e con appostamenti sotto casa. A giudizio una 54enne dunque. A Giulianova pescano vicino alla riva multate tre vongolare, operazione della Guardia Costiera fra Roseto e Pineto, dove tre vongolare di Giulianova sono state sorprese a pescare vicino alla riva, maxi multe di 12 mila Euro totali. A Teramo, 3 milioni per il ponte San Gabriele. Cambiamo ancora edizione, andiamo sull'edizione aquilana del centro Niente Vaccino esclusa da scuola. L'Aquila, ma i genitori della bambina presentano un ricorso al TAR. La fotonotizia è dedicata alle questioni politiche, il blitz al comune dell'assessore Sabrina Di Cosimo defenestrata, carnevale, opera mia. Centrodestra, si legge, nella bufera sulla cultura. In basso, auto incendiata in un condominio, Avezzano giallo, sull'atto intenzionale che ha distrutto la macchina di un operaio, sempre Avezzano ci porta nelle cronache, Pugile è arrestato, l'ho fatto per la famiglia, torna libero, Ivan Di Berardino, Pugile avezzanese, che è stato rimesso in libertà dal giudice del Tribunale dell'Aquila, dove era stato arrestato due giorni fa per essersi avvicinato alla moglie, l'ho fatto per mia figlia, ha detto al magistrato. Sempre all'Aquila, primo trapianto di rene col robot chirurgo, Assulmona, ex ferroviere in coma, esclusa la caduta. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del messaggero, che apre proprio con la notizia che abbiamo visto poco fa di San Salvo. Botte ai bimbi, arrestata maestra e maltrattamenti in un asilo di San Salvo, l'insegnante si trova ora ai domiciliari, a incastrarla sarebbero state le telecamere installate di nascosto dai carabinieri. Andiamo a Chieti, presenze fantasma, neguai anche prof e alunni, a giudizio anche De Nicola. In alto, proprio sotto la testata, vediamo dei box, per esempio a Teramo, alla ricercatrice Federica Zacchini, il premio Curie per la scienza, complimenti davvero. All'Aquila, primo trapianto di rene con il robot chirurgico Leonardo Da Vinci, nome importante, impegnativo per questo robot. Siamo allo sport, Scogna Miglio, che spirito, Pescara, ora l'impossibile, ha vinto da ex all'uscita nel giorno in cui è nata la figlia Arianna. Se entriamo in campo come a Crotone possiamo giocarcela con tutti. Scendiamo a centro pagina e vediamo queste due notizie che sono entrambe di cronaca. Torniamo sull'omicidio Neri, la meriva bruciata, chiave del delitto. Assume un ruolo fondamentale sulla morte di Alessandro Neri a Pescara, la meriva trovata bruciata dopo l'omicidio. La vettura sarebbe stata sul posto del delitto, come leggiamo in quello che è davvero un vero e proprio giallo. Colpito da malore mentre guida, muore a 28 anni, San Valentino, il ragazzo, tornava a casa dopo una serata trascorsa con la fidanzata. E in basso invece Pescara, ricattatore Ard, cade in trappola. La prima pagina del quotidiano La Città della provincia di Teramo, che apre con un reportage, ovvero maledette buste nere, ecco perché il porta a porta è un fallimento. E poi tanti box che vediamo riassunti in pagina, decolla a Tortoreto il progetto del nuovo polo scolastico. A Giulianova, tre vongolare giuliesi nella rete della Guardia Costiera, come abbiamo visto, a Roseto, Buche e Crateri. Lavori fermi per mancanza di operai. A Teramo, revocata la gestione dei megaparcheggi. Sempre a Teramo, lavori a Ponte San Gabriele a fine estate. Per le provinciali, escalation di fibrillazione tra Partito Democratico e 3.0, teramo 3.0, appalti pubblici, gare truccate. In 28 vanno a processo, in basso il portale Istat, alluvioni e frane e sisma. Ecco la mappa del pericolo, comune per comune. Abbiamo concluso con i quotidiani regionali abruzzesi, andiamo adesso su quelli nazionali. Ovviamente la politica, l'economia sono al centro delle prime pagine. Questo è il Corriere della Sera, manovra bis, gelo tra il ministro del Tesoro, Tria, e il Movimento 5 Stelle. Mozione Tav, la Lega accetta il patto con i 5 Stelle per il rinvio dell'opera. In Odi, il ministro Tria dice prematura la manovra bis, stime però da rivedere. Il Movimento 5 Stelle dice fantascienza e lo spread sale a 280 punti base. Nel milanese, scritte razziste contro Baccarì, ora ha paura. Baccarì, ragazzo adottato di origine senegalese, i genitori del giovane dicono una violenza gratuita. In basso, sparita la figlia dell'ambasciatore, gli 007, da Roma in Corea del Nord. Scatena davvero un caso politico, la misteriosa scomparsa della figlia, 17enne di Yosong Gil, ex ambasciatore di Kim Jong-un, in fuga dal regime della Corea del Nord. La Repubblica, l'Unione Europea boccia il governo Conte, la manovra frena la crescita. Tav intesa Lega 5 Stelle per bloccarla, asse tra Grillini e Meloni che chiedono di nazionalizzare Banchi Italia. E a proposito dell'eventuale manovra bis, l'analisi di Andrea Bonanni è il fantasma di maggio. La foto, dedicata anche questa a Baccarì, il razzismo quotidiano contro Baccarì, ho trovato una famiglia, cerco pace. Lo stabile occupato, altra notizia che ieri ha fatto discutere, Salvini fa scudo a casa Pound, no allo sgombero, è pulita. In basso, Champions League, Madrid, la caduta della Juve, per il sogno serve un'impresa, l'Atletico vince, 2 a 0. Il messaggero, anche qui praticamente stesso titolo, identico del Corriere della Sera, manovra bis, duello, Movimento 5 Stelle, Tria. Il ministro Def ad aprile, correzioni premature, ci basterà una riserva da 2 miliardi, ma crescita in caduta, ne mancano 4 o 5. Caso Tav, mozione giallo-verde per ridiscutere l'opera. L'intervista al ministro Buongiorno, legittima difesa a marzo a Roma, non vedo cambi di marcia. Il premier albanese rama i cittadini dalla mia parte, dietro la protesta il vecchio potere, parla il premier albanese. Intrigo Nord Corea, rimpatriata la figlia, il dissidente in Italia. Roma, l'ex ambasciatore nascosto dai nostri 007, offensiva 5 Stelle, ora Salvini deve spiegare. Il fatto quotidiano, i due Renzi e l'ultimo prestanome poco prima dell'arresto, la Cop Marmodi in liquidazione da un mese, fu ceduta a dicembre a Di Palma, che salvò una loro ditta nel 2005. Dopo il voto su Russo, il fatto è che i 5 Stelle, i lettori si dividono sulla scelta pro Salvini. A centro pagina il reddito sarà prorogabile, ma più difficile per stranieri. Agli extracomunitari servono dei documenti aggiuntivi per evidentemente accedere al reddito. Il mattino, droga, i nuovi spacciatori tra Bitcoin e chat segrete, l'ultimo caso a Caserta. Sgominata una banda, indagati 5 minorenni, il pacco a casa, impossibile risalire a chi è incassato la moneta virtuale. La sanità al sud, al tolà della Grillo, ministro proprio della Salute, allo spacca Italia. Il ministro a Zai, a servizio uguale per tutti, manovra bis e tensione tra Tria e i 5 Stelle. Il manifesto, che apre come sempre con un titolo accattivante, la Cassa Forte, accontentato Salvini sul caso Diciotti, Di Maio incassa la nomina a capo dell'Inps di Pasquale Tridico, osteggiato dalla Lega. gestirà l'eredità di Tito Boeri nel potente istituto di Previdenza e il salvadanaio per il reddito di cittadinanza, Verbaro, subcommissario di transizione in alto, rimpatriata a forza in Nord Corea, la figlia dell'ex ambasciatore a Roma, che avrà disertato a novembre. La verità, Babbo Renzi attacca i giudici, ma lo insegue un'altra indagine, gli strani arresti domiciliari, si vede il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, violento post di Tiziano su Facebook contro l'inchiesta che travolge lui e la moglie. spuntano un nuovo filone per Bancarotta, ma se vende l'azienda può tornare libero. La foto giallo sul rimpatrio della figlia dell'ex ambasciatore coreano, attenzione, Movimento 5 Stelle Salvini è sotto, troviamo l'assassino di Pamela, rischia di sfangarla, il pentito che accusa Osegale annuncia, non testimonierò, mi è stata tolta la protezione. Il tempo, tratta dei bimbi dall'Albania a Roma, un dipendente all'Italia per anni ha comprato dei piccoli per portarli in Italia e farli adottare. I genitori pagano fino a 1000 Euro nella speranza di regalare ai figli un futuro più roseo. in alto, ricostruzione? Sì, delle poltrone, con la scusa del terremoto, il PD vuole regalare un mandato extra al sindaco Dem di Macerata. E poi la foto, perché ieri c'è stato anche l'anticipo in Europa League della Lazio, adios Lazio che esce contro il Siviglia, in Coppa passano gli andalusi. La stampa, con questa doppia apertura, e allora leggiamo quella che riguarda la foto e gli abusi sessuali, il Papa raduna la sua Chiesa per la prima volta, leggiamo, il Papa riunisce leader ecclesiastici di tutto il mondo per combattere la pedofilia nella Chiesa. I preti USA più coinvolti con l'America in prima fila, scrive Paolo Mastrolilli. E poi scendiamo, TAV, intesa a Lega 5 Stelle, l'opera va congelata, le regionali tentano i gialloverdi insieme alla conquista dei feudi del Partito Democratico Massimiliano Panarari, il fronte neopopulista. Il sole 24 ore, infrastrutture, fermo il 44% dei progetti del nord-ovest, il presidente di Confindustria, peraltro il dittore del sole 24 ore, incalza in Italia aprire subito i cantieri con le risorse già stanziate. Mobilità piano di Toninelli da 19 miliardi per finanziare mini opere e manutenzioni, lo stallo di TAV, Terzo Valico e Brescia Verona costa 5,4 miliardi di mancati lavori. Conte sblocca il piano antidissesto e nuove cabine di regia. Scendiamo e andiamo alla parte in cui c'è la questione che riguarda il ministro del Tesoro Tria, se il PIL scende, riserva da 2 miliardi per quanto riguarda i conti pubblici. Le telecomunicazioni, sia nella foto che anche nella notizia in basso, nella telefonia mobile rallenta la corsa di Iliad, rallenta la corsa sul mercato mobile di Iliad in Italia, e quanto emerge analizzando il trend della portabilità in giro dei clienti che cambiano operatore. A dicembre le acquisizioni sono state 142 mila a fronte delle 569 mila di agosto e in continua discesa. Team Focus Alleanze sul piano gubitosi. E poi una notizia che riguarda le compravendite di immobili per gli immobili in costruzione preliminare solo con il notaio, se il titolo abitativo edilizio è presentato o richiesto dopo il 16 marzo. Andiamo allo sport adesso, le prime pagine dei quotidiani sportivi, partiamo con la gazzetta dello sport, ovviamente quasi tutto lo spazio è dedicato alla serata di Champions di ieri sera, questo è il titolo emblematico, Juve rialzati, notte da incubo con l'atletico, finisce. 2-0, le due facce della serata, quella grintosa ma anche contenta di Diego Simeone e invece un Cristiano Ronaldo con le mani in faccia a terra. Jimenez e Godin condannano i bianconeri, Allegri dice sono fiducioso per il ritorno, peggio di così non si può. E poi c'è il commento di Luca Calamai, ecco perché la partita non è già finita, lo schiaffo è di quelli dolorosi, ma la partita si legge non è ancora finita, la Juve deve voltare subito pagina, deve far tesoro degli errori commessi all'andata. Ieri sera nei box vediamo notizie che riguardano altre squadre, sempre prevalentemente riguardanti il calcio, a tutto Rakitic, offertona Inter, contratto triennale da 6,5 milioni all'anno, il giocatore ha detto no alla Premier, al PSG per il progetto di Suning col Barcellona intesa sui 40 milioni. Sempre in casa Inter, Riccardi all'angolo, le visite sono ok, stasera c'è il Rapid Vienna, perché peraltro oggi Inter e Napoli scendono in campo per l'Europa League, Spalletti dice se Mauro fa passaggi corretti da parte nostra, c'è apertura a San Siro, alle 21 si parte dall'1-0 dell'andata, il Napoli, Napoli prende gli ottavi e dà l'assalto alla Coppa, invece la Lazio che ha giocato ieri, ciao all'Europa League, 2-0 del Siviglia. In basso andiamo in casa Milan, ciao la Noglu e le prove da leader, domani sera con l'Empoli, toccherà a lui guidare il Milan. Vediamo adesso il Corriere dello Sport che definisce la serata di ieri sera un ciolazzo, Simeone abbatte la Juve, 2-0, ora è durissima l'atletico spadroneggio, segnano Gimenez e Godin, due uruguayani, il VAR toglie un gol a Morata, attraversa di Griezmann, delude Cristiano Ronaldo e Allegri dice. Non è finita qui l'analisi del direttore Ivan Zazzaroni che dice la Juve sparita, si intitola la Juve sparita. Poi sotto la foto vediamo la Lazio che si fa male da sola, il Siviglia vince 2-0 e passa, ma i biancoceretti sbagliano in difesa e anche sottoporta Inzaghi, Patrick ai ferricorti. Napoli, Carlo si promuove la soddisfazione di Ancelotti, la squadra finora da un 7, stasera la sfida allo Zurigo, Mertens giocherà al fianco di Lorenzo Insigne. Icardi sta bene ma non gioca, per i medici il ginocchio ok, rientro però un mistero, Spalletti assenza pesante con Rapi, dell'Inter parte da 1-0. Tutto sport, un'invocazione, una preghiera per Cristiano Ronaldo a cui si chiede di salvare questa Juventus. Il VAR evita un rigore e un gol ai bianconeri che però sbagliano la partita, squadra senza coraggio, senza personalità, decidono Gimenez e Godini. Il 12 marzo a Torino ci vorrà tutta un'altra Juve per tentare la rimonta, che dirà operato al cuore, tornerà tra un mese. Altre notizie, Supercoppa Primavera, Supercoppa vinta dal Torino e un vivaio d'oro, vittoria ai calci di rigore contro l'Inter e di Inter si parla in basso, Icardi in castigo, sta bene ma è fuori, non convocato per la sfida con il Rapid. In Serie C invece dall'incubo alla gioia, Godi Entella sei prima, Serie C vetta conquistata dopo un'estate che abbiamo vissuto anche insieme abbastanza assurda, quella che ha riguardato la Virtus Entella e non solo che si pensava dovesse giocare in Serie B, poi sono stati tanti rinvii, alla fine si è deciso per la Lega Pro e adesso ha conquistato dopo tanti recuperi la vetta della classifica. Noi ci fermiamo adesso, pubblicità, prima le previsioni del tempo, poi rientriamo per sfogliare i quotidiani di casa nostra tra poco. Seconda parte di mattino 6 che apriamo come di consueto cominciando a sfogliare anche se virtualmente i nostri quotidiani, ripartiamo dal centro, dalla pagina di Pescara che apre con questa novità, il recupero del patrimonio edilizio, garage sotto tetti e cantine, cielo ok, possono diventare all'oggi via libera del Consiglio Comunale, contrari i tre consiglieri dei 5 Stelle e Martelli di Sinistra Italiana, basta pagare un contributo al Comune, ma l'altezza degli immobili deve essere almeno di 2,40 m. e poi ci sono anche le zone escluse perché come vedete la delibera non riguarda tutta la città e per chi trasforma la prima casa c'è lo sconto del 30% sul versamento. Cambiamo pagina, rimaniamo a Pescara, andiamo per la precisione in via Tirino, paura per il monossido, intossicati dalla stufa a casa dei nonni, tempestivo intervento dei genitori dopo il maressere dei bambini è evitato il peggio, nella camera iperbarica però va tutta la famiglia. E a centropagina altra cronaca perché come vedete non si ferma all'alte, in seguito è arrestato, Pescarese alla guida di una BMW, sperona due auto per evitare i controlli, poi viene bloccato dai carabinieri. In basso scendiamo, il porto canale subito, i fondi per il dragaggio, sospiri sollecita, l'autorità portuale, gli 800 mila Euro dice ci sono. Mobilità sostenibile, Pescara, modello per le ciclabili, amministratori pescaresi, relatori in un progetto europeo. L'estorsione online, cambiamo pagina, andiamo a pagina 17. O mi paghi o metto su Facebook fotomontaggi hard con il tuo viso, un 35 anni elice, finge di appartenere a un'organizzazione che realizza filmati pornografici e a una donna conosciuta sui social che chiede 200 Euro per far sparire le immagini, ma lei lo fa arrestare. Nella pagina accanto, Rancitelli parla la gente per bene. Qui 40 anni fa c'erano le scuole e i negozi, ci hanno tolto tutto, inviatavo sporcizia, serrande abbassate, affittasi sulle vetrine, i residenti raccontano il rione, ci facciamo i fatti nostri e andiamo avanti. E c'è chi propone un posto di polizia al posto del parco. Nella pagina opposta vediamo anche altre fotografie e il camper Caritas per aiutare chi si sente ai margini, Magliani, bisogna riportare la gente nelle strade, Don Pagnello, noi restiamo, ma tocca anche alle istituzioni. In basso altri due arresti al ferro di cavallo, i carabinieri tornano a perquisire dialoghi popolari e trovano hashish e cocaina, intanto questa sera su Rai2 come vediamo in alto il reportage di Pier Vincenzi sui clan pescaresi, giornalista aggredito durante le riprese in via Tavo. Nella parte opposta, a pagina 20, appalti truccati, 28 finiscono a giudizio, prenditori provenienti da varie regioni che dovranno rispondere a riturbata libertà degli incanti. Rigopiano violò i sigilli dell'area, va a processo Alessio Feniello, lo ricorderete, la storia della violazione dei sigilli per portare fiori al figlio, uno delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano. A pagina 21, addio al medico che cantava Faber, vanitieri, 63 anni, era il frontman dei Nottefond, la cover band di De Andrè, che si esibiva per beneficenza. Tumore alla prostata, all'ospedale di Pescara arriva il laser verde, nuovi trattamenti proprio nella ASL pescarese. Andiamo a Montesilvano, via Friuli, è una strada senza asfalto nel luce, siamo abbandonati, attraversa di via Abruzzo dove tra poco aprirà il cantiere, spesso si allaga, i residenti dicono paghiamo le tasse anche noi e come dare torto a questi cittadini. Forza Italia e Lega, intanto per la politica, come vediamo di spalla, sono pronte a convergere sull'attuale sindaco di Montesilvano, Maragno, per eventualmente proporre un Maragno bis. In basso una nuova piazza per Montesilvano Colle, dopo il sopralluogo con progettista e assessore, questa mattina la ditta aprirà il cantiere per i lavori. Casina del Parco, siamo a Spoltore, la gestione sarà affidata gratuitamente, il comune pubblica il bando riservato alle associazioni iscritte all'albo. A Città Sant'Angelo lo straordinario per le elezioni costa 15 mila Euro. Nella pagina accanto a Francavilla, Piazza Sant'Alfonso, i danni ammontano a 15 mila Euro. Una perizia stabilisce quanti soldi sono necessari per si separare l'area dove era montata la pista di ghiaccio. Un mese per riparare le mattonelle e il comune non esclude che ci saranno anche delle azioni risarcitorie. A centro pagina in Contrada, Fonte Chiaro, si getta dal terrazzo dopo la lite, donna di 70 anni, soccorsa al convivente e ricoverata in psichiatria. Malore mentre guida, la notizia che abbiamo visto anche in apertura nell'edizione di Pescara, muore a 28 anni, Emilio astrologo, stava tornando a casa quando la Fiat Punto è uscita di strada, inutili tentativi del 118 di rianimarlo. A centro pagina le testimonianze porteremo Emilio sempre nel cuore una comunità in lutto, quella di San Valentino, alla notizia della tragedia, il sindaco, un dolore che unisce tutto il paese. In basso, Paolo VI, convenzione in scadenza, siamo a penne, occorrono 120 mila Euro per continuare ad assistere 15 ragazzi disabili. Cambiamo quotidiano, poi torneremo ovviamente sul centro per le altre città, le altre province, gli assetti della regione, andiamo sul messaggero, eletti assessori, si decide tutto in pochi giorni, i software del Viminale confermano il risultato, oggi il primo vertice per la nuova aggiunta, ma senza Marsiglio. Centristi, Bianco respinge le accuse di Zelli, Forza Italia sarà già confederata con DC e UDC. Andiamo alla pagina di Pescara che apre con il delitto neri, l'inchiesta punta sulla Meriva, un pneumatico dell'auto data alle fiamme, è rottamata, compatibile con le tracce trovate sul luogo dell'eseducuzione. Il verdetto definitivo del RIS mette un punto fermo all'attenzione dei carabinieri e procura, si concentra sul proprietario della Opel. Riccato Ard, con sorpresa arriva la polizia, minaccia di divulgare foto e filmati scabrosi della donna, conosciuta su Facebook, lei finge di cedere e pagare, lui finisce in manette. In basso il cartello degli appalti pubblici, 28 imprenditori a giudizio nel Merino, i lavori commissionati da H. Aterchieti ed Esercito, decisive le rivelazioni di un costruttore. Taverne in garage e semi interrati, il Consiglio approva recepite in comune la legge 40 sugli spazi abitativi, intesa tra PD e Forza Italia sul voto, Movimento 5 Stelle e Sinistra invece sono contro. La Confindustria converge su Pagliuca, Camera di Commercio, ipotesi salce. In basso, verifica politica sulla scelta del candidato in comune al PD, si aprono i tavoli, Gasperi e Casciano di Articolo 1 e MDP indicano di seguire il modello Legnini e in basso per i lavori pubblici a Peschiare, il cantiere infinito di Via Trieste, Blasioli dice sabato la riapertura. Ragazzo trovato morto nell'auto, cambiamo pagina, per Emilio Antonio Astrolo così sospetta un malore fatale, il PM ordina l'autopsia. Droga ed evasione, doppio arresto nel corso di un blizza a Rancitelli, operazione firmata dai carabinieri della Compagnia di Pescara, continua la pressione sul quartiere Caldo e come vedete, papà Feniello, ritroviamo la notizia che abbiamo visto prima, a settembre sarà in tribunale. All'Aquila, cambiamo dunque, passiamo ad un'altra città tramite il messaggero Di Cosimo, Silveri Junior e Ferricorti incontro ad alta tensione in ufficio, confronto acceso tra i due nell'assessorato alla cultura in occasione della riunione per gli eventi di carnevale. Prosegue la carrell sulla cacciata della giunta, post di fuoco su Facebook contro il Sindaco Biondi, che vediamo proprio in foto con il Consigliere Silveri. La buona sanità, il primo trapianto di rene con il robot Da Vinci e in basso la sentenza Consorzio Latte, inchiesta archiviata. Avvocati Colucci, succede a se stesso, poche le novità, nel programma è rinnovato Ordine Forense, salvare l'assottore del Tribunale e poi si vedrà, siamo ad Avezzano, emerge qualche nome nuovo, ma le cose non sembrano cambiare, Palazzo di Giustizia del Copoluogo, Marsicano. Assulmona, Comune, niente voto anticipato a maggio e poi Castel di Sangro, chiude il reparto di chirurgia, è rivolta. Torna libero il campione dei pesi massimi, Ivan Di Berardino, come avevamo letto anche in apertura. Dall'altra parte siamo a Chieti, presenza e fantasma nelle scuole private, a giudizio professori e alunni, accusa di falso ideologico e falso materiale in atti pubblici per 29 persone, sotto accusa agli istituti Rossetti e Visconti. Verso lo stop della raccolta dei rifiuti a Formula Ambiente, la lotta si fa dura. caso sciocca a San Salvo, botte e bimbi, maestra arrestata, violenza sui bimbi alunni a scuola di infanzia di Via Verde a San Salvo, decisive alle immagini delle telecamere nascoste. Le mamme preoccupate hanno segnalato la situazione ad altri insegnanti, dando il via ai controlli dei carabinieri. A Lanciano, stalking colpita e presa a calci dal rivale in amore. A centro pagina, mala scatenata, furti in abitazioni e negozi nei guai due famiglie Rom e poi andiamo a Teramo, il gestore non paga le tasse, parcheggi passano di mano nel mirino del comune, gli spazi sosta di Ponte San Gabriele e Piazza San Francesco, le strutture tolte alla società M&P e affidate alla Costruttori Teramani. Poi scienza, il premio Curie alla ricercatrice Federica Zacchini. In basso l'opera di Ponte San Gabriele, 3 milioni dall'ANAS per consolidare il cavalcavia per la giudiziaria, prende soldi per l'alcol, maltrattamenti ai genitori, questioni che riguardano la cronaca. Atri e Santomero, ecco i nuovi primari, nelle terne per l'ortopedia ostetricia risultano primi Fascione e Santarelli. Altre notizie, banca allagata, siamo a Giulianova e battaglia per il risarcimento d'anni e poi agguato alle auto dei veterinari, sempre a Giulianova, le gomme sgonfiate dai vandali. Torniamo sul centro, per andare a Chieti, studente spacciatore arrestato in classe, i carabinieri fanno eruzione al pomiglio e nelle tasche di un alunno trovano acisce marijuana da vendere agli amici, droga tra i banchi. A San Salvo, maltratta i bambini, maestra ai domiciliari, sotto accusa sgridate e metodi usati all'asilo. A denunciare è stata la direzione didattica. Angelini, ora la condanna è definitiva, la Cassazione conferma gli 8 anni inflitti per la bancarotta di Villapini, adesso rischia di finire in carcere. False presenze, torniamo a Chieti, nei registri di classe a giudizio in 29 tra professori e alunni. Cambiamo pagina, Confindustria, Pagliuca, pronto a sostituire Zecca, ieri il Consiglio Generale della Confederazione sul rinnovo della Presidenza. Sul campo, sul tavolo anche il problema, nuovo vertice della Camera di Commercio. Da 30 a 3 dipendenti, sede svuotata, il palazzo storico della Camera di Commercio di Piazza Vicocchi è abbandonato a se stesso. Monopoli, tutto a Pescara, chiude l'ufficio Teatino, meta di circa 50 utenti al giorno. A Teramo maltratta e picchia i genitori, condannato, botte e minacce per avere i soldi con cui comprare droghe e alcol, un anno e 8 mesi ad un 34enne, Teramano. Santoleri in aula, i primi testi della Procura, oggi nuova udienza per padre e figlio di Giulianova, accusati di aver ucciso Renata Rapposelli. E in basso, le notizie che avevamo visto in apertura un po' particolare, Fantacalcio, consigliere rimborsato da Boateng, Roberto Nepa, era stato buggerato per il passaggio del giocatore dal Sassuola al Barcellona, poco preventivabile oggettivamente, però evidentemente c'era avuto anche un rimborso, beato lui. A Martinsicuro, in seguimento a folle velocità in via Roma, l'auto dei malviventi lanciata a 150 all'ora in pieno centro, abitato, stava per investire due anziani. Le Vongolare, siamo a Giulianova, sorpresa a Pescara vicino arriva, operazione della Guardia Costiana tra Roseto e Pineto, scattano maxi multe per 12 mila Euro complessive. A Silvi, per seguita, la famiglia del fratello, a giudizio, donna di 54 anni, a processo per stalking, avrebbe inviato messaggi di minacce anche alla cognata e al nipote. A centro pagina, vice capo dei vigili urbani, la CISL, storia grottesca, nomina decaduta ma non le funzioni. E poi in basso, Pineto, nell'Olimpo del mountain bike, il 4-5 maggio, a Parco Figliani, oltre mille atleti per una tappa delle internazionali Sirius. All'Aquila, bimba non vaccinata, esclusa dalla scuola, ma i genitori ricorrono contro il provvedimento mai convocati dall'ASL per poter concordare un appuntamento. Trapianto col rene robot chirurgo al San Salvatore, il primo intervento del genere eseguito con questo macchinario è entrato un anno fa in attività nell'ospedale Aquilano. Ad Avezzano incendiata un'auto in un condominio, la vettura appartiene da un operaio di 47 anni di Avezzano senza precedenti, per gli investigatori è un atto intenzionale. Di Berardino, l'ho fatto per mia figlia, il pugile arrestato lunedì sera all'Aquila per aver provato ad avvicinare la moglie, è stato scarcerato. In basso, sul Monex, veroviere in coma, esclusa la caduta, la polizia cerca testimone e prove, tra le ipotesi quella della limite sfociata nell'aggressione. 30 opere di Ruthart date in prestito a Danzica, i dipinti dell'artista e Monaco Celestino tornano nella sua città natale in Polonia, Arbace, tracce importanti lasciate a Collemaggio. e poi qui siamo già allo sport, andiamo in provincia di Teramo con il quotidiano della città, tra poco andremo proprio allo sport, il reportage con questa doppia pagina, Bustenere, il fallimento della raccolta porta a porta. Ovviamente siamo a Teramo, ho reso conto di una notte di controlli con le Gadi Telateam sullo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato in città, i controlli a Piazza Garibaldi, porta Madonna e le foto che testimoniano, un pezzo molto ampio, che testimoniano quella che è la situazione in questo momento del porta a porta a Teramo e in controtendenza il parco giochi app invece diventa plastic free, addio plastic e monouso per stoviglie e bicchieri, c'è il biodegradabile. Ecco, Teramo è al top per il rischio idrogeologico, spulciando i dati del portale Istat emerge una mappa dei pericoli comune per comune fra le alluvioni e sisma e vedete anche la cartina con diverse colorazioni che poi evidentemente devono identificare qual è il rischio. Sempre a Teramo, escalation di fibrillazione in maggioranza, la tregua spiccata dal Sindaco, non è durata molto, nuove tensioni in vista delle provinciali di fine marzo. Revocata la gestione di due megaparcheggi, mobilità e parcheggi non avversato 650 mila euro di Italia, le strutture tornano alla Costruttori Teramani. Trovato l'accordo per Ponte San Gabriele, il comune scuce oltre 3 milioni per i lavori di messa in sicurezza che però slittano solo alla fine dell'estate. Ubriachi e molesti in Piazza Sant'Anne, i residenti spaventati chiedono l'intervento della Polizia e di un'ambulanza del 118. A Tortoreto 12 in corsa per un posto all'anagrafe, pubblicati i nomi del finalisi del maxiconcorso proprio del comune di Tortoreto. E sempre a Tortoreto rimaniamo perché decolla il progetto del nuovo polo scolastico firmato alla Convenzione con l'Università di Bolzano per avere un percorso di progettazione che sia partecipata. Controlli sulla pesca, 3 vongolari giugliesi nella rete della Capitaneria, sorprese di notte sotto costa con 220 chiede di pescato illegale, 4 mila euro di sanzione per ogni equipaggio che sono 3 e dunque 4 per 3. 12 siamo a Giulianova, Grimi, Bacchetta sulla tassa turistica, assurdo che ci siano 7 regolamenti diversi per 7 comuni della costa. Buche e qui siamo a Roseto, altri interventi a partire da lunedì, lavori temporaneamente fermi, per carenze di operai interviene Petrini. Adesso andiamo alle pagine dello sport, partendo con il centro, ovviamente saltiamo la parte relativa agli ottavi di Champions, andiamo in Serie B, Fiocco Rosa e Lotta playoff, Scogna Miglio in prima linea, il difensore Papà per la seconda volta, la vittoria di Crotone dice per la mia piccola Arianna, promozione in Serie A, noi ci siamo, martedì a Benevento, sarà un bivio importante. Ma è allarme terzini in vista della gara con il Padova, del Grosso non recupera, Balzano squalificato e allora in preallarme c'è Pinto, il Padova invece sarà senza il bomber Bakogu. In basso, Tiri Bocchi, Io e Pilon, amore e odio, dice l'ex attaccante di Serie A, che è stato allenato da Pilon, l'ex bomber, il Delfino è da Serie A, l'ex bomber è ora commentatore da Zon, Pescara può puntare alla promozione tramite i playoff, ho avuto Beppi al Chievo, facevo gol ma nella gara successiva finivo in panchina, manca un gol ad Orra? Monachello, dice Tiri Bocchi, è forte e farà molto bene. Dall'altra parte siamo in casa Teramo, le parole del DS Sandro Federico Teramo, fammi vedere chi sei, infantino, arma in più, il DS del diavolo, lancia la corsa a salvezza d'ora in poi, i punti saranno pesantissimi, servono rabbia e mentalità vincente. In eccellenza, le parole del tecnico del Chiedi, Alessandro Lucarelli, con la Torrese non è decisiva, il tecnico elogia la capolista e avverte, la strada per la Serie D però è ancora lunga e per lo sci, da domani a domenica gli assoluti master a Roccaraso. Calcio e integrazione, si dibea all'Atalanta passando per la Marsica, il 16enne e i Vorri hanno tornato in Italia con un barcone, cresciuto a Colle Longo, ora è a Zingonia e gioca con i nerazzurri dopo essere esploso nel capistrello, davvero una bella storia. Poi ci torniamo sugli altri sport, ma andiamo sul messaggero Pescara, che spirito ora l'impossibile Scognamiglio ha vinto da ex all'uscita nel giorno in cui è nata la figlia Arianna, se andiamo in campo come a Crotone, penso che potremmo giocarcela con tutti, davvero una prestazione monstra per Gennaro Scognamiglio e Pilon, Lima, gli errori in vista del suo Padova. In basso, in C, chi vince i playoff di Serie D, sono 30 mila i tesserati in Abruzzo, crescono le società dilettantistiche e i calciatori, questo è il resoconto dei 60 anni, i festeggiamenti per i 60 anni itineranti della Lega Nazionale dilettanti che portano in dote questa notizia, perché i playoff di Serie D spesso e volentieri sono serviti solamente ad allungare in maniera abbastanza inutile la stagione delle squadre. Andiamo in casa Teramo, diavolo affidati a Giorgi, squalificato proietti sabato a Ravenna, sarà il 31enne a guidare il centrocampo del Teramo, Cegli al rientro, dopo uno stiramento si sta allenando all'inizio settimana ed è pronto per scendere in campo in casa. Giuliano invece Tegola sul Real si ferma, Di Paolo che si è fatto male proprio nella gara contro la Re Canatese di domenica scorsa. Torniamo sul centro, andiamo a vedere per il basket, Martelossi, Roseto è l'esame più duro per la mia GSA Udine, il tecnico Friulano in forza agli Sharks negli anni della Serie A, a domenica di fronte due squadre forti tra le più in forma. E per il volley a due terza contro prima la Sieco con Lanci, Piacenza senza Fei, l'impavida recupera il palleggiatore, non però Dolfo e Simoni, capolista priva della sua stella, cioè Fei, e sarà giornata bianca-azzurra. In basso 5 abruzzesi agli assoluti di Lanci, a Lucca, Inlizza, Beneduce, Di Benedetto, Montanaro, Caporrella e Barbone. Ciclismo ripertirà il 17 marzo da Sant'Egidio la stagione su strada, sono 25 le gare previste, l'evento Clou il 28 luglio con gli assoluti donne a Castelnuovo Vomano e come vedete c'è anche il riassunto, il calendario gare su strada 2019. In basso a Francavilla, giovani in passerella, la festa della vela, Troiano e Masturso, tre premiati alla manifestazione delle stelle 2018 in programma domani al Mumi. A proposito di ciclismo, io ne approfitto per ricordarvi giovedì prossimo che torna anche l'appuntamento con la nostra rubrica Velo al 23esimo anno oramai, ovviamente ideato da Luciano Rabbottini, tutta la stagione ciclistica su strada, ma non solo, anche tanta mountain bike, pista, ciclocross soprattutto perché veniamo dalla stagione invernale a farvi compagnia per 35 settimane, tutti i giovedì sera alle 21, ovviamente un'ora e 30 minuti su due ruote. Chiudiamo con la pagina di sport del centro perché Armeno si ferma, ma Maurizio ritrova a Celli, siamo in casa a Tenomo, esterno Mancino bloccato da un problema fisico, è a rischio per la gara di sabato contro il Ravenna, domani la scelta finale, Armeno dovrebbe rimanere ai box oggi per precauzione, nella rifinitura di domani si potrebbe capire se è disponibile per la gara del Benelli e senza proietti, Giorgi Persia e il duello per la sostituzione del playmaker, davanti ballottaggio per il compagno di reparto di Infantino, Sparacello è favorito, ma rientra anche Zecca dopo l'infortunio con il Rimini. Bene, questa era l'ultima notizia per questa mattina, per questa edizione di mattino 6, vi ricordo alle 14 l'appuntamento con la prima edizione del nostro telegiornale, la prima delle 3, la seconda alle 19, la terza alle 23, mattino 6 invece torna come di consueto domani mattina alle ore 8 per leggere insieme i quotidiani, è tutto, buona giornata.